Da venerdì l'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro, sia nel pubblico che nel privato, si è tenuto ad Avellino un vertice in prefettura che ha visto riuniti intorno al tavolo il rappresentante di governo per fare il punto i delegati di Confindustria, Sindacati ed ASL. Tutti hanno espresso il pieno convincimento della necessità di proseguire la campagna vaccinale per uscire alla pandemia. Nel corso dell'incontro è stato proposto anche un protocollo per ripartire i costi dei tamponi tra lavoratori e aziende per coloro che decideranno di non vaccinarsi. Sindacati favorevoli sul punto, Confindustria non si oppone, ma prima dell'ok definitivo andrà fatta una ricognizione e una valutazione dei numeri in ballo. Dal confronto non sarebbero comunque emerse situazioni di criticità in provincia di Avellino poiché la gran parte dei lavoratori risulta vaccinata, anche se ci sarebbero settori che richiedono campagne di ulteriore sensibilizzazione. A tal proposito i sindacati hanno chiesto e avuto rassicurazioni su una comunicazione più diffusa ad esempio in merito alle farmacie che applicano prezzi calmierati per i tamponi e sull'apertura di punti vaccinali o la presenza di camper per le inoculazioni.